Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti nel mio canale e oggi andremo a spacchettare il pacco Avon di Campagna 9 lo andremo a prendere insieme, ora lo giriamo mi è appena arrivato, quindi sinceramente ancora non so dove ci sia dentro allora, andiamo a trovare il nuovo catalogo di Campagna 12, quello in anteprima un foglio per noi presentatrici 5 cataloghi di Campagna 10 e in anteprima un catalogo di Campagna 11 poi c'è la mia fattura un altro foglio di noi presentatrici le offerte per noi presentatrici il nuovo Avon Casa inverno e anche questo è le offerte per noi presentatrici di questo qui vi farò un video che lo andremo a sfogliare insieme nel pacco ho trovato con la promozione con questo potevo ordinare anche questo a 5,90 euro sono da 500 ml e questa è la profumazione del mango e questo è l'orchidea scura e lampone sono buonissimi questa lascia la profumazione veramente ottima al corpo e sono da 500 ml poi mi hanno ottenuto il profumo della Mesmeris Black da maschio da 100 ml scusate per questo umore ma è mio cane che beve poi mi è arrivato la lozione dopo sole rinfrescante con aloe da 400 ml della Sun Pium della Sun Pium mi è arrivato anche la crema sole da 150 ml la protezione 50 poi mi è arrivato il profumo da 50 ml della Ultra Sexy Pink insieme a 17 euro mi arrivava anche questa lozione corpo alla pappa reale da 400 ml della Von Kair poi mi hanno ordinato questo braccialettino rosa morbido di plastica veramente bellino non so se si vede ma è tipo intrecciato con gli anellini tipo quella catena poi mi hanno ordinato della Farway la lozione per il corpo spray da 75 ml poi mi hanno ordinato lo shampoo della Supreme Oil da 400 ml quello che è nutriente per tutti i tipi di capelli mi hanno ordinato anche la nuova versione che ha 10 benefici questo io l'ho preso in anteprima quindi dovrebbe uscire ora nel catalogo di campagna 10 ho 10 benefici ora non c'è la mia aiutante se no vi leggevo quali erano da 400 ml però vi farò un video dove vi farò sapere tutto l'occorrente cioè l'occorrente le cose e mi hanno ordinato cioè mi hanno ordinato la mia sorella mi ha preso il balsamo dai 10 benefici da 250 ml poi mi è arrivata la matita questa qui della Glimmerstic Black Black questa qui ve l'ho fatta vedere anche in altri video quindi non vi starò a farla rivedere di nuovo questa qui invece della Glimmerstic è scusate Marco per te dark brown che di questo qui la tonalità questa qui è la matita no gel della color trend questo qui è sempre anche bikini black che vi ho fatto vedere anche in altri video poi questa matita invece si chiama Romantic Eyes della color trend e ha non so se si vede questo da una parte e questo dall'altro poi mi è arrivata questa matita no anche questo è un gel in realtà mi pareva una matita perché è super shock mi pareva una matita in realtà è black scusate se li vedete così ma li ho aperti prima perché siccome so da sola a fare il video non mi riesce a dire è così nero così perfetto poi mi è arrivato anche il rossetto neon orchid che non vi posso offrire ma si vede qui non so se si vede perché la tua c'è un po' questo colore in mezzo poi mi è arrivato anche questo fucsia fan che è così rosa più o meno non so se si vede un po' ma non vi posso aprire che non sono miei poi mi è arrivato ah questo qui che è il è un ora non mi viene in mente lo smalto effetto gel della nail pro più della la viva pink ah no no non è effetto gel scusate mi sono confusa io è della nail pro più questo qui la 10 ml infatti è un rosa veramente bello molto shock poi questi sono tutti campioncini scusate ma è il mio cane che abbaia qua sento il rumore questi sono campioncini di profumi questo 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 ed infine questo la mia campagna questa volta è stata abbastanza piccola ma speriamo che la prossima sarà ancora più grande il pacco è completamente vuoto e alla prossima ciao 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 ciao